Siete bellissimi, bravi! Eccolo, il caffè, l'acqua e il crepe sandwich. Personalmente sono sempre stato dell'idea che le persone potessero assimilarsi individualmente a delle rette, che in un caso possono convergere, incontrarsi in un punto in un dato momento e poi continuare la loro corsa divergendo sempre di più. Oppure che potessero essere come due rette parallele, che corrono tra di loro equidistanti e all'infinito, legate da amore e stima. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Io sono innamorato di te e orgoglioso di poter affermare, finalmente, di essere tuo marito e che tu sia mia moglie. Grazie! 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 Grazie!